Questo è un daier, ecco qua, che meraviglia ragazzi, bene 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 bene, stanno arrivando i secondi ragazzi, vai, si magnano, sentiamo un po' questa donna, ciao, come ti chiami Maria, 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 Maria da dove vieni? Viene da Modena, sentivo l'accento emiliano infatti, quindi tuo paese d'origine? Viva Napoli, e vai, benissimo, ascolta tu cosa fai nella vita? Lavoro, perché chi non lavora non fa l'amore, giusto? Benissimo, e come vorresti l'uomo ideale? Intelligente, bravo, sensuale, eccomi, wow!